Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sulla Grania Sky, siamo all'episodio numero 4 e può darsi, beh non è importante che episodio siamo, direi di cominciare, cosa facciamo oggi? Oggi facciamo la cobblestone infinita, ci servirà un po' di roba per estrarla, ci servirà, vediamo se abbiamo i materiali, non lo so, partiamo subito dai. Ok, allora, cambiamo visuale e direi che qua intanto sta facendo la lava, allora noi vediamo se abbiamo tutti i materiali per poterlo fare, non abbiamo una cippa di minchia perché in realtà ci serve, allora vediamo, ci serve un transfer, questo qua, transfer node, ci serve la redstone che non abbiamo, la stone ce l'abbiamo, per fare questo ci serve sempre la redstone, no, non ci serve la redstone, per fare questo ci serve la redstone, si, il glass, ok. Ok, la redstone la facciamo, non c'è la magica del crop qua, dall'agricraft, possiamo fare le coltivazioni, un sacco di roba, figo, vabbè ma adesso non ci interessa, dai facciamo, intanto vediamo la redstone, come la facciamo, la facciamo, la facciamo, crashando che cosa però, dai, ok la dust, la dust, quindi la dust si fa facendo la, abbiamo la cobblestone, allora dai facciamo così, facciamo così, interrompo un attimo il video, farmo un po' di cobblestone e poi dopo la spacchiamo su, ok, allora ho formato un po' di terra, adesso la mettiamo così, dobbiamo fare il martello, il martello, il martello lo facciamo di pietra però, perché almeno dura un po' di più, perché sennò ciaone proprio, ok, il martello, facciamo così e facciamo come vi ho detto prima, la lava qui l'ha fatta, perfetto, ok, spacchiamo, una palla ragazzi sta cosa, guarda te se doveva crescere l'albero adesso, vabbè, è praticamente così, vi faccio vedere poi, si fa la gravel, si spacca la gravel, ci dà la sand, si spacca la sand, ci dà la dust, si prende la dust, si butta dentro qua e ci dà della roba, in questo caso ci ha dato la tin, mettendo 4 di tin ci dà bla 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 bla, e quindi bisogna continuare così, ripeto, rifaccio, stoppo il video, faccio e poi ritorno, ok, un po' di dust, vediamo un po', poi più avanti avremo la possibilità di fare questo qua automatico elettrico e lo spacca roccia elettrico, quindi faremo tutto un sistema di barrel, tubi, che esce già in mente come farlo, secondo me viene fuori una figata colossale, tutto automatizzato e basta, poi vedremo se utilizzare il pulverize o la tinker per sdoppiare i materiali, sono più propenso al pulverize, solito vecchio sistema, poi vediamo, vediamo se è uscito un po' di, eh, attenzione, uno di redstone, non esageriamo, che pezzi di merda, a noi ce ne servono 3 di redstone, che palle, allora, 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 facciamo una cosa, ho la clay, giusto? ho la clay, ho la clay, questo qui è l'alluminio, ferro, vabbè, la clay ce l'avevo, sì, devo fare un altro secchio perché mi serve, no, no, cazzo di clay ne ho una sola, no, questo qui viene una sola, 2, merda, 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 ritorno tra poco, eccomi qua, allora, mentre setacciavo la terra mi ha dato il rubber, quindi per la plastica, è ottimo, l'ho piazzato giù, vediamo un po' di farlo crescere, cibo, cibo, un sacco di cibo, bene, 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 vabbè, adesso ce l'ho, no, non ce l'ho, sì, ce l'ho a pane qua, ok, allora, rifacciamo tutto, cobblestone, eee, cobblestone, 30, adesso da questi 30 non mi viene fuori la cosa, mi incazzo come una bestia, fate voi, cioè non sto chiedendo tanto, eh, devo solo fare la cobblestone infinita, cazzo, dai, tanto poi sto procedimento lo dovrò fare veramente un sacco di volte, ci passerò le giornate praticamente a fare sta roba, almeno mi dai la cosa, almeno la cobblestone non devo fare sto sbattimento di setacciare la terra, anche perché nella prossima puntata se ho la cobblestone infinita, faccio le slab di cobblestone, faccio inizio a fare un bel piano, e avere un buon punto di inizio, no, sai, per fare una specie di fabbricato, qua sarà tutta fabbrica, perché è un cazzo del cottage, ok, stai a vedere che non mi basta il martello, devo farne un altro, poi c'è un altro sistema, eh, di questo, per farlo automatizzato, come dobbiamo avere il macchinario apposta, perché tra l'altro non mi ricordo neanche come si fa, mi serve un bel po' di materiale per fare il macchinario apposta, si fa con l'auto, l'automer, come si chiama, aspetta, vediamo, auto, no, questo qua è l'automatic hammer, vedi, l'inbar, eh, 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 l'inbar, cazzo, se solo riuscissimo a farne uno, anche uno solo, è vero, ci serve corrente, però la corrente la facciamo, vabbè, dai, più avanti, vediamo un po', guardate la fatica al consumo del cibo, come va veloce quando faccio queste cose, ovviamente più ci si muove e più si consuma cibo, per quello voglio anche automatizzare tutto, no, perché così evitiamo di dover ogni due secondi fermarci a mangiare, questo qua giuggerò molto velocemente il cibo, ecco, vaffanculo, vabbè, tre soltanto, dai, facciamo, lì, dai, dammi un po' di redstone, per favore, cazzo, per favore, ho anche la glowstone, è un diamante, così, facciamo la transmutation table, vaffanculo, noiosa, 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 questa parte, come tutti gli inizi di ogni, di ogni modpack, quando bisogna farmare queste cose, è veramente una palla, ma va, dai via il culo, dai, se riesco a fare l'invar con la corrente, guarda quanta bella roba che ci sta dando, adesso ci sta dando tutto, tranne la redstone, c'è un guarda che pezzo di merda, c'è incredibile sta cosa, tre pezzi me ne servono in totale, è possibile che su 40 cosi non mi dà tre pezzi di redstone, dai, fai il serio, per favore, due, ci ha mandato cinque glowstone che non me ne faccio niente, ma vaffanculo va, allora, intanto c'ho il ferro però, vabbè, grazie, grazie per avermi dato il ferro, gentilissimo, tutt'anni sordata, un altro ruber, ottimo, questo bisogna mettere di giù, prendiamo quello, prendiamo questo, ok, niente, ho finito la terra, ah, minchia, quasi finita però, ma si può, allora, devo tenere della dust, per fare la clay poi anche, allora, siamo tornati qua, andiamo, mettiamo questa così, e se diciamo, ho fatto un altro martello, quindi spaccare velocemente sta cosa, e la dust per fare due secchi, mi serve uno per l'acqua, che poi mi rimarrà, e uno per la lava, che poi si fotterà, ovviamente, questa clay qua, porca, devo fare un altro secchio, vabbè, dopo dai, adesso bisogna semplicemente, la, la, Allora Dai, dammi la redstone, per favore Anzi, guarda, lo vedo subito se mi dà la redstone Allora, mettiamo qua così Oddio, grazie Grazie, grazie Davvero, grazie Mille Gentilissimo, eh Altro rover Non si, da questa roba non mi serve Allora Dobbiamo fare il transfer node Transfer node Che si fa No Ah, mi devo cuocere la stone Che non ho Aspetta, qua però forse l'ho vista Terra Che ho, tutta la terra che ho fatto È già andata a fanculo Un parto è sta cosa Un parto Quindi se devo fare le slab Mi servono Però non devo farne tante Quindi mi bastano tre pezzi Ah, ce l'ho anche il labislazzolo Pensate Allora Allora Allora, il transfer node Come si fa? Ah, cinque me ne servono Giusto Me ne servono anche qua Ok, glass Quindi mi serve la sabbia Che io non ho Devo fare altra stone Stone, 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 stone Dove cavolo è? Quindi ho tre Quindi ho Zero Ah, quindi ho un bot Ok, ho sette Quindi Uno E due Queste mia Uno, due, tre Vengono fuori sei E facciamo Uno, due, tre Quattro Cinque Sei Mi servono due Due vetri Sabbia Vetro Vetro Vediamo se ho detto giusto Non questo Vi servono questi Questi Ok, giusto Otto Vengono fuori Quindi ci siamo Questo lo facciamo Uno, due E tre Bam Ok Poi invece questo Si fa Così Una ender pearl Uno di questi Uno, due E la stone Due stone No, è sotto Ah, una chest Non l'ho fatta la chest Allora Mettiamo via tutto Prendiamo la legna Che è Tipo qua Ok Facciamo così Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Mettiamo giù Questo l'ultimo qua Uno, due, tre Quattro, cinque E sei Transfer node Perfetto Adesso Non è mica finita qua Adesso bisogna fare l'upgrade Upgrade Che è questo del minare Oddio Ma stai scherzando? Vabbè, vabbè, vabbè Abbiamo fatto il transfer node Adesso I lapisrazzoli come si fanno Dimmi che si spanno dalla gravel Perfavore Allora E R Sì, dalla gravel Grazie 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 Allora Quindi Quindi Che cosa facciamo? Beh, niente Facciamo la La clay Dai Allora Abbiamo detto che questo è così Vediamo se riusciamo a fare un secchio Ok Mi hanno dati quattro Perfetto Così No, forse ne ho due Riusciamo a farne Perfetto Riusciamo a farne due Ok Ok Ricocciamo Così vi faccio vedere come si fa Facciamo anche un barrel Quindi la legna ce l'ho Il barrel si fa con Una slab Così Poi si mette No, la slab sopra Poi com'è che era Legna grezza Vediamo Sono appena fatti Nell'altro pacchetto Già non mi ricordo Allora Una, due, tre Quattro, cinque, sei E forse uno così Che cazzo Stai dicendo Forse è tutto così No Facciamo prima scriverlo Allora Bar 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 Eh si E la cestica Ma vaffanculo Allora Così Ok Il barrel ci serve Per la legna infinita Allora Andiamo se ha cotto Ha cotto Anzitutto Prendiamo un secchio Da qua Oh Eh non ho più spazio Prendiamo un secchio D'acqua Stai scherzando Dove è finito Scusa Ok Prendiamo un secchio D'acqua Lo mettiamo qua dentro Così Ci possiamo fare la clay Eventualmente Per il coso Allora Poi prendo Un secchio di lava E poi prendo Un secchio d'acqua Ok E dove la facciamo Lo facciamo qua Scusate ragazzi Ma mi è tipo Crashato tutto il gioco E un bordello Vabbè Comunque sia Ehm Dicevamo Dicevamo Che Ehm Ah ok Stavo facendo questo Allora Qui Com'è che era Aspetta In teoria dovrebbe essere Che tipo L'acqua Così No Ok Ah devo fargli il buco Ok Osti Osti Brutta Così però Uh Brutto Brutto Così Non mi piace No Ehm No 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 Porca Eva Porca Eva Allora Un attimo Un po' Facciamo così Intanto lo chiudiamo Subito Vabbè Lì poi Ne mettiamo un altro Porca Eva Che brutto Coso No Non mi piace Allora lo facciamo Lo facciamo Un po' Si faceva Uno Due Tre Quattro Cinque Il buco Era qua Ok Si Questa così E la lava Così Andiamo Bam Perfetto 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 Vediamo che Se io spacco Vedete La rottura di balle È che Così Riperdo Dove fare Tipo Ah si Così Non li perdo Però Perché Io ho fatto Questo Perché Se io gli metto Questo E poi gli metto Come si chiama Il L'upgrade L'upgrade Questo qua In pratica Io Questo qua Lo prendo Io lo metto Dentro qua E lui mina Praticamente Mina e Estrais Io gli metto Questo Sopra E un Barrel E io qua Però chiudo Perché ha rotto Le balle Non voglio finire Gioco Con un pirla Ok E un Barrel Lui me lo riempirà Ok Niente Per il momento È inutile Che lo piazzo Perché tanto Non serve a nulla E Questo lo possiamo togliere Per il momento è tutto Direi che Possiamo anche Concludere il video Grazie a tutti Ciao